ciao e benvenuto sul mio canale in questo video voglio mostrarti come ho smontato modificato e rimontato il musetto in vetro resina del mio commone saxe 640 premetto che non sono un professionista del settore ma comunque il lavoro con una buona manodà può essere fatto senza grosse difficoltà l'esigenza di effettuare questo lavoro è nata sia dallo stato di logorio delle fasce di incollaggio del musone che comunque si stavano letteralmente lacerando sia dal desiderio di spostare le gallocce di ormeggio dalla superficie del musone ai lati sia per rendere il gommone un po più moderno e sia per facilitare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri da prua nel corso del video ti spiegherò quali materiali prodotti e utensili utilizzare sappi che per iniziare avrai bisogno di una pistola termica che troverai in qualsiasi ferramenta al costo di 20 30 euro di una pinza possibilmente a pappagallo con i manici più lunghi e di una spatola preferibilmente in plastica va bene anche una spatola in metallo ma assicurati che abbia gli spigoli stondati e nessuna parte tagliente altrimenti andrai a danneggiare la parte del tubolare su cui lavorerai dai andiamo a vedere cosa ha combinato ecco come si presentava il musetto prima di questa modifica prima di iniziare ho sgonfiato leggermente la prova del gommone per evitare che le camere d'aria ma soprattutto i giunti incollati durante l'uso della pistola termica fossero sottoposti ad un'eccessiva pressione come prima cosa ho rimosso la fascia di pura con gli occhielli che serviva ad ancorare il coprigommone originale sax ma che dava al gommone stesso un aspetto un po troppo vintage ho riscaldato la superficie da scollare tenendo la pistola termica a circa 20 centimetri di distanza e sempre in movimento per evitare di bruciare il tessuto sottostante appena la colla ha iniziato ad ammorbidirsi ho sollevato un angolo con la spatola ed ho tirato con la pinza continuando sempre a scaldare la superficie da scollare e lo spazio tra la fascia e il tubolare stessa tecnica ho usato per rimuovere definitivamente il musetto dal tubolare la parte sottostante è chiusa da un foglio di ipalo neneoprene che ho rimosso sempre con la pistola termica ho quindi rimosso le parti in acciaio e rimosso il nastro antiscivolo con un raschietto i residui di colla sono stati tolti con una pietra abrasiva montata su un dremel ma andateci piano per rimuovere meno vetroresina e jercot possibile non come ho fatto io i vecchi fori delle gallocce ed altre eventuali imperfezioni sono state stuccate col gelcote bicomponente di osculati una volta levicate le stuccature il musetto è stato verniciato con gelcote spray una volta asciugato il gelcote ho rimontato le parti in acciaio siliconando con cura tutti i fori per gli incollaggi ho usato adepreneforte una colla bicomponente specifica per questo tipo di applicazioni attenetevi scrupolosamente alle indicazioni del produttore sia per quanto riguarda la percentuale di catalizzatore che se non ricordo male dovrebbe essere il 6 per cento in volume sia per quanto riguarda i tempi di applicazione quindi una prima mano ben stesa 10 minuti di attesa poi una seconda mano sempre ben stesa 15 20 minuti di attesa e poi si può procedere all'incollaggio per stendere la colla tagliate le sedole del pennello per circa metà della loro lunghezza in questo caso più colla non significa un incollaggio migliore una volta rimontato il neoprene che sigilla la parte inferiore del musetto siamo pronti a ritornare a lavorare sul gommone una volta mascherata con nastro carta all'area esterna a quella dove andremo ad incollare possiamo procedere con la pulizia dell'area sempre con la testa abrasiva montata su dremel o su traparo di cui vi ho già parlato attenzione perché stiamo lavorando sui tubolari del gommone da adesso in poi non sono ammessi errori ricordate inoltre che prima di ogni incollaggio sia il supporto che la parte da incollare devono essere pulite con la stessa testa abrasiva una volta riportato il tubolare del gommone alla giusta versione e passate le due mani di colla appoggiamo il musetto in posizione e teniamolo ben serrato con delle corde o delle strappa con cricchetto possiamo ora procedere all'incollaggio delle fasce di rinforzo intorno al musetto la cosa migliore sarebbe creare una cornice perfettamente sagomata sul nostro musetto ma per non complicarmi la vita ho preferito creare quattro strisce distinte di neoprene una volta posizionata la fascia pressatela utilizzando il rullino che avete visto qualche foto fa avendo l'accortezza di passarlo dal centro della pezza verso l'esterno per eliminare eventuali bolle d'aria come vedete il risultato anche se non professionale è sicuramente più che accettabile e per oggi è tutto grazie per avermi seguito fino alla fine di questo video ci vediamo alla prossima